Buonasera a tutti! Questa macchina qua, non so se si riesce a vedere bene, della Oxford, sono praticamente neri e ora ve li faccio vedere. E ora apriamo questo scatolo che praticamente è più grande di me per farveli vedere. Ve ne esco fuori solo uno. Allora, lo stivale è praticamente questo. È tutto nero, fatto così. Vediamo se mi riesco ad avvicinare. È fatto così. Questo qua ha i lacci. Qua davanti, io non posso farne a meno perché ho la monta del piede alto. È un numero 41 perché io porto 41. E come polpaccio hanno l'L che è 41 cm praticamente, qua c'è scritto. Ed è davvero morbidissimo. Qua dietro ha solamente l'elastico da questa parte. Ha la chiusura qui sotto, fatta così, con il relativo portasperone qua. E poi la cerniera arriva fino a qui, dove praticamente anche qui c'è un elastico. Dove qui c'è la cerniera, appunto c'è questa cosa elastica qua che si chiude. Ho dovuto comprarli perché chi ha visto magari Instagram, ha visto che i miei stivali, dopo l'ultima volta che li ho trovati bagnati dentro l'armadietto, sono praticamente esplosi. E quindi, cioè, già erano distrutti, ma così è ancora peggio. Perché praticamente qui si era tutto bagnato con l'acqua e si era praticamente distrutto. Perché asciugandolo si è praticamente distrutto a più non posso. Si è piegato tutta la pelle un macello. E niente, praticamente l'unica cosa di diverso che hanno appunto da alcuni stivali, altri, è che tipo quelli della Tattini che hanno qui il coso intercambiabile, qui hanno questa cosa che è fatta in blu scuro, con la piestrina, col marchio, però questa non si può cambiare appunto fissa. Sono forse leggermente più alti di quelli che avevo prima, però la cosa non mi dispiace. Io non so se riuscite a vedere quanto è grande il polpaccio, però, cioè, il mio polpaccio è così. Il polpaccio è più grande e io più piccolo di questi non posso prenderli. Di dentro sono veramente comodissimi, morbidissimi. Ora vi tolgo il cartoncino che c'è dentro e la carta per farvi vedere quanto sono appunto morbidi. Cioè, già sono morbidi così senza averli mai ingrassati. La cosa che mi interessava era appunto la parte di qua davanti, che fosse morbida e che appunto non mi creasse pieghe strane. Stessa cosa vale per questa zona di qua. Io devo dire che sono ottimi e li trovo ottimi anche per il rapporto qualità-prezzo, perché comunque ci sono stivali che costano anche di più ma non sono così comodi, o ci sono stivali che costano, cioè, che magari si rovinano subito. Questi qua sono fatti di un finto pellame più spesso, in modo che si rovinino più lentamente possibile. Li porterò sempre a casa, non ogni fine di lezione, ma ogni fine settimana, nel senso che io faccio lezione due volte a settimana, arrivato alla seconda volta, li porterò a casa per pulirli, ingrassarli ogni fine settimana e poi tenerli più sistemati, perché anche se ho cambiato il posto dell'armadietto e me l'hanno messo in un posto dove l'acqua non ci arriva, comunque si sporcano e si impolverano e dopo che ho pagato questi bei soldi non ho alcunissima intenzione di, diciamo, di rovinarli prima del tempo. In più hanno una suola che si chiama, ecco, Wear Light, praticamente, che è una suola ultraleggere, quindi praticamente li rende molto più leggeri, cioè sono addirittura molto più leggeri di quelli che io avevo in precedenza, proprio per questo. Niente, alla fine il video era breve solo per farveli vedere, io li ho provati anche con i pantaloni e quant'altro, e devo dire che mi ci sono trovata molto bene, quindi niente, questo appunto è tutta la situazione e spero che appunto vi sia piaciuto, se volete informazioni vi ricordo di scrivermi qua sotto nei commenti e questo sono i miei stivali nuovi. Ciao!